Ciao a tutti amici e bentornati su Tecnandroid.it Oggi andiamo a parlare di anonimato e sicurezza sul web, nella navigazione internet e su tutti i nostri dispositivi Sto parlando del servizio VPN proposto da Surfshark, disponibile sul mercato in diverse opzioni con un prezzo anche abbastanza vantaggioso, soprattutto se andiamo a considerare poi gli abbonamenti prolungati nel tempo, da sei mesi o da due anni, come vedremo tra pochissimo e che garantisce un servizio aggiornato agli ultimi standard di sicurezza disponibili sul mercato e che riesce a garantire anche una gestione smart del servizio, facilitata tramite l'utilizzo di applicazioni facilmente scaricabili, facilmente utilizzabili direttamente da tutti i nostri dispositivi da dispositivi mobili con Android, con iOS, fino anche a Mac, a Windows, Windows 10, Windows 11 ma anche addirittura Fire TV ed estensioni per web browser Si tratta di un servizio che garantisce alcune funzionalità molto interessanti, incluse nel pacchetto come vedremo nel corso di questa recensione, che possono essere acquistate ad un prezzo ridotto e aggiuntivo rispetto all'abbonamento semplice, che vanno a completare tutta l'offerta proposta da Surfshark Ma uno degli aspetti che riesce a fare maggiormente la differenza rispetto a tanti altri servizi gratuiti o a pagamento disponibili sul mercato è senza dubbio la possibilità di utilizzare un numero infinito di dispositivi senza alcuna limitazione sugli accessi e sull'utilizzo del servizio che per molti di voi potrebbe fare effettivamente la differenza Ma andiamo a scoprire meglio subito dopo la sigla Il servizio principale offerto dall'azienda è quello di fornirci una VPN, ovvero una rete privata virtuale che ci consenta di collegarci a internet tramite un tunnel crittografato per garantire la nostra sicurezza e proteggere i nostri dati durante la navigazione Vengono usate molto spesso per navigare in totale anonimato Per accedere a servizi disponibili solo in determinati paesi basta pensare allo streaming video con i principali fornitori che limitano i contenuti a seconda del paese dal quale ci connettiamo e anche alcuni servizi web a cui non è possibile accedere se non ingannando i vari siti e cambiando i server di connessione Utilizzando una VPN potremo navigare sul web al sicuro nascondendo il nostro indirizzo IP e anche accedere senza alcuna preoccupazione agli hotspot pubblici senza il pericolo che qualcuno possa rubarci i dati oppure le password soprattutto se sui nostri dispositivi abbiamo app o dati sensibili come ad esempio quelli della nostra banca In alcuni casi, soprattutto in quei paesi dove la libertà di internet non è totalmente libera come in Italia, si può usare la VPN per eludere la censura ed evitare di essere sanzionati oppure bloccati dalle autorità Usare il servizio è molto semplice occorre prima di tutto creare un account e abbonarsi ad uno dei possibili piani Attualmente è disponibile un piano mensile al costo di 11,45€ al mese un piano semestrale al costo di 5,49€ al mese e un piano di 2 anni con 3 mesi gratis aggiuntivi al costo di 1,95€ al mese Se da una parte il servizio mensile non è affatto economico seppur conveniente sotto determinati aspetti Surfshark punta tutto sui piani a lungo termine per fidelizzare l'utente e consentire di usufruire di un servizio completo al costo più basso possibile Una volta eseguito il login e pagato uno di questi piani potremo scaricare le nostre applicazioni direttamente su Windows, MacOS, Android, iOS e perfino Fire TV per tutti i possessori di chiavette TV di Amazon Ma prima di vedere il funzionamento di queste applicazioni diamo un'occhiata alle principali funzionalità messe a disposizione da questa VPN Sotto il profilo sicurezza troviamo una politica rigorosamente no log grazie alla quale non viene tenuta alcuna traccia o alcun registro delle nostre connessioni e delle attività online effettuate dai nostri dispositivi con VPN attiva Inoltre è presente una comoda funzionalità di kill switch che ci consente di appoggiarci su una rete di sicurezza apposita nel caso in cui ci si dovesse per caso o per errore disconnettere dalla connessione VPN privata e quindi non permettere la divulgazione di possibili dati sensibili o di dati di navigazione Inoltre l'utilizzo di DNS privato su ogni singolo server garantisce una protezione superiore contro le perdite dei dati e di sicurezza per l'utilizzo di pacchetti IPv4 Se poi remete che in ogni caso il vostro provider di servizi possa in qualche modo tracciare i vostri movimenti online Surfshark mette a disposizione un servizio di camuffamento online che impedisce perfino ai nostri provider di tracciare la nostra connessione rimanendo sempre vigorosamente nell'anonimato Infine la modifica del proprio indirizzo IPv5 ci consente di usarne uno che non venga associato alla nostra identità digitale grazie anche ad una delle criptografie migliori del settore I server a nostra disposizione saranno più di 3200 sparsi in 65 paesi in giro per il mondo con con DNS privato per ogni server e soprattutto dei server basati su sola RAM quindi in caso di attacco informatico non ci saranno supporti fisici dai quali rubare i dati degli utenti per una sicurezza ancora più avanzata che ormai è diventato uno standard di questo settore È possibile creare delle multi-connessioni per appoggiarsi su un primo server e poi rimandare la connessione su un secondo server con una modalità denominata multi-hop che aumenta ancora di più la sicurezza Possiamo solo usare quelle già presenti sulle app e che l'azienda fornisce per i propri utenti Tornando invece per un attimo al servizio, alle caratteristiche e alla qualità del servizio di Surfshark e questo mette a disposizione un numero illimitato di connessioni di dispositivi al quale accedere tramite il proprio abbonamento a differenza invece di tante altre VPN e tanti altri servizi che limitano questo valore magari a 5 o a 10 dispositivi Si tratta di una funzionalità molto importante soprattutto magari per chi ha tantissimi dispositivi o per delle aziende che intendono utilizzare questo tipo di servizio VPN per tanti computer e tanti dispositivi e che comunque riesce a limare ancora di più sul pezzo e sulla convenienza del servizio Ma andiamo a vedere la qualità della connessione e la velocità rispetto alla rete domestica senza VPN Soprattutto tenendo in considerazione il valore del ping che mostra in maniera pratica la velocità con la quale la rete riesce ad accedere e a trasmettere i pacchetti di dati che abbiamo richiesto Abbiamo eseguito i nostri test su Windows 10 aggiornato all'ultima versione disponibile attualmente con una rete in fibra FTTC con connessione al modem tramite cavo Ethernet Abbiamo testato diversi server e i dati ci mostrano come allontanandoci dal nostro paese di appartenenza a cambiare principalmente il valore del ping che normalmente si attesta su valori di base completi tra 7 e 10 in Europa con VPN attiva tra 50 e 100 e invece fuori dall'Europa con valori superiori a 200 arrivando fino a 515 per il server giapponese I valori di download e upload invece si sono mantenuti abbastanza stabili rispetto al valore di riferimento con connessione multihop allo stesso modo abbiamo potuto riscontrare un aumento vertiginoso dei valori legati al ping della rete con valori di download e upload simili al valore di riferimento Su smartphone tramite l'apposita applicazione scaricabile tramite Play Store o comunque tramite App Store su iOS abbiamo raggiunto delle velocità simili o anche superiori al valore di riferimento con la rete senza VPN ma anche in questo caso con ping leggermente superiori Al contrario collegandoci a server fuori dall'Europa i valori del ping sono stati sempre superiori a 300 e i valori di download e upload si sono dimezzati In fin dei conti nonostante questi valori siamo riusciti a scaricare i nostri file di prova a navigare e a eseguire lo streaming tramite le principali piattaforme disponibili nel nostro paese e a meno che non abbiate bisogno di valori specifici per determinati ambiti come ad esempio quello del gaming per una latenza ridotta ai minimi termini durante le connessioni in multiplayer vi troverete più che bene nella maggior parte delle situazioni Anche la velocità di accesso e collegamento ai vari server varia tra i 3 e 5 secondi su PC desktop e tra i 5 e gli 8 secondi tramite smartphone senza tempi di collegamento eccessivamente lunghi Insomma un servizio che convince soprattutto se intendete scegliere l'opzione a lungo termine con un prezzo estremamente vantaggioso e che vi permette di navigare in sicurezza in totale anonimato e soprattutto di superare la censura della rete a seconda del paese in cui vi trovate o in cui viaggiate Insomma Surfshark è riuscita a convincerci nel corso delle nostre prove utilizzato su diversi dispositivi estensione web dispositivi legati al mondo Android legati anche al mondo Windows e in ogni caso ci ha garantito un servizio affidabile sicuro e soprattutto molto molto stabile e si tratta di un servizio molto interessante se pensate di navigare in totale anonimato di accedere a servizi magari esclusi per cui è necessario accedere da un server esterno al paese di appartenenza oppure anche di oltrepassare la censura di alcuni paesi relativa al mondo di internet se vi trovate a viaggiare o magari a trasferirvi da quelle parti Per questo prodotto è tutto vi ricordo che se aveste dubbi, domande o chiarimenti potete farceli qui sotto nei commenti Un saluto a tutti da Filippo e da DeclanDroid.it Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!